La lingua nel naso no, cioè in tutti gli altri punti va benissimo, ma qua no. Ci sono altri buchi, cioè... Secondo me la lingua nel naso è più schifosa che la lingua nel naso. No! Pensaci, da lì ci caghi! Ma lo puoi pulire, e poi è piacevole, il naso se ci metti anche il dito non è che sia piacevole. Però probabilmente leccherei più volentieri una narice che un nano. No, io sono più fan di leccare l'ano piuttosto che la narice. Ovviamente è pulito, si parla di una persona che si pulisce, si lava. Luca, mi sembri un po'... No, io non ho mai pensato di inserire la lingua in questi punti assai oscuri, diciamo.